ciao peter che sorpresa quanto tempo saranno ehi peter ma sai che ti trovo proprio bene stai proprio bene ma da quanto è che stai così bene beh da un po diciamo da qualche ora non si direbbe e adesso come ti senti ancora bene perché no così per sapere e tu invece come stai ah io benissimo peter davvero bene ma non so perché nel senso che non credo ci sia motivo ecco tu lo sai perché stai così bene sì che lo so perché va tutto bene ah perché va tutto bene strano no che cos'è strano che quando una cosa va bene no allora uno fa tutto normale insomma è tutto a posto invece quando una cosa va male si esagera si pensa al peggio non si esce ci si rinchiude in casa davanti a film noiosissimi tragici si scrive il testamento ci si scrive a corsi improbabili di shatsu si chiamano amici lontanissimi di cui non ricordiamo nemmeno il cognome si finisce al bar sotto casa a ubriacarsi con dei sambi ter mentre si mangiano insipidi salatini insomma quelle cose là allora io mi dico che se stiamo bene anche se stiamo bene dobbiamo esagerare no guardami peter io mi sento benissimo assisto proprio benissimo e scusi signora signore io sto benissimo sapete urla per la strada dai peter dai esagera anche tu devi stare benissimo non bene va bene ma che cambia se uno sta bene sta bene eh senti però adesso è meglio che vada peter perché te ne vuoi già andare ci siamo appena incontrati no così ho da fare e poi non mi sento tanto bene come non ti senti tanto bene vedi è già passata dovevi stare meglio prima dovevi esagerare senti ora stai davvero esagerando io me ne vado ok peter non insisto se uno sta male è giusto che abbia i suoi spazi sentiamoci presto però sì certo ci sentiamo presto ciao peter ciao e peter aspetta un'ultima cosa ma se io sto così bene perché non riesco a sorridere ci provo cazzo se ci provo ma non ci riesco tu non te ne sei neanche accorto non lo so in realtà non ci avevo fatto caso in effetti sei troppo seria ma forse sono diventata seria quando mi hai detto che non ti sentivi bene che dici non credo sembravi seria anche prima senti però io devo andare peter peter adesso sorrido guardami sorrido tantissimo spalanca la bocca hai visto mi sento proprio bene sorrido 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 oh ti ho visto tu non hai sorriso dai sorridi ma non posso sorridere tutto il tempo non sono mica uno scemo e poi ci sono delle cose che non mi fanno sorridere ma perché secondo te io sono una scema no non volevo dire questo e allora cosa che certe cose non mi fanno sorridere ho capito ma ora come ti senti non lo so forse un po' meglio forse ora che ne abbiamo parlato un po' meglio e tu io non troppo vado a casa ma dai non andare parliamone un altro po' no 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 meglio che vada mi viene da vomitare ma perché ora ti viene da vomitare beh non lo so perché mica ci deve essere una causa per tutto no si piega in due vedi mi viene da vomitare va bene scusa non volevo farti star male mi sento uno stronzo ora no no dai non sentirti uno stronzo mi è passato ora mi sento un po' meglio bene sono contento ci andiamo a fare una birra ah certo scusa ma che ti ridi no così mi è venuto da ridere ma mi stai prendendo in giro ma no certo sì tu mi stai prendendo in giro ma no ti dico di no io ti dico di sì io no io sì io no io sì dai peter andiamo ora va bene andiamo ma dove andiamo 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 da te no da me no andiamo da te no da me non si può va bene andiamo in un bar non mi piacciono i bar sono follati e che cazzo non ti va bene un cazzo lo vedi ora sei incazzato sì voglio essere incazzato va bene va bene va bene andiamo guidi tu no non me la sento il ciclo allora guido io guida piano però è sì certo guido piano peter sì dimmi me lo fai un sorriso adesso no uno piccolo no ti rode ancora sì posso fare qualcosa sì stai zitta uffa che palle e per quanto per un po' un po' un po' quanto dimmelo un po' non lo so quant'è un po' il tempo di stare zitta e rilassarsi un po' ma io sono rilassata io no va bene starò zitta finché non ti rilassi grazie grazie tanto giro qui o vado avanti oh allora giro qui o vado avanti dai cazzo rispondi che ho tre macchine dietro oh dai cazzo allora dove vado boom ecco puttana eva ho tamponato uno oppure tu che cazzo potevi dirmi dove andare oh ma mi senti ma sei diventata muta è questo che vuole adesso senti aspettami qui torna dopo mezz'ora quel tipo era veramente arrogante ha fatto un disegno dell'incidente per niente simile alla realtà dei fatti un isterico tra l'altro ha addirittura scritto che io sono passato col rosso la gente è incomprensibile uno parla parla ma nessuno sembra ascoltare sembrano tutti fregarsene guarda che sei passato con il rosso ah adesso parli ti è tornata la voce si parlo e perché non mi hai detto che era rosso non mi hai detto dove andare che ti sei ingoiata la lingua senti ora mi sono rotto e coglioni mi prendi per un deficiente vero scendi no sì scendi dalla macchina subito no oh ma non ci senti ho detto di scendere no anzi sì che fai se scendo ti senti più rilassato sì mi sentirò molto meglio una volta che te ne sei andata va bene vado peter se sono stata zitta è solo perché me lo hai chiesto tu ok ma questo però vuol dire essere dei cretini è un'altra cosa adesso piangi sì sei proprio un cafone un insensibile ma dai non volevo offenderti e che a volte ti comporti come una bambina dai non piangere dai questa macchina non è neanche mia è dell'azienda dai davvero è della tua azienda cosa la macchina sì sì ho detto di sì allora possiamo fare quello che ci pare in che senso dico possiamo farci tutte le multe che vogliono correre andare in retromarcia salire su marciapiedi ficcare sotto un topo beh direi di no un incidente in un giorno mi sembra più che sufficiente ah ma che triste che sei ma come che triste vuoi farmi licenziare vabbè può succedere che uno becca qualche multa perché distratto no sì può succedere ma ma cosa dai peter divertiamoci andiamo dalle parti di piazza navona entriamo a piazza navona con la macchina trionfanti ma dai no e poi ci divertiamo un mondo ne sono sicura dai andiamo dici certo sarà uno sballo va bene ma basta che non ricominci a piangere sì non piango va bene ma guida tu no ho il ciclo ma perché uno col ciclo non può guidare no si diventa troppo nervosi e se ci prende il maldovaie è la fine perché è la fine perché si cade nel pessimismo cosmico c'è il rischio di suicidarsi ma davvero non lo sapevo e perché vi prende sto pessimismo è che ne so è una questione ormonale vabbè ma ora come ti senti è molto bene e tu anch'io molto bene allora puoi guidare tu no ho detto di no il ciclo potrebbe colpirmi all'improvviso ok ok allora vado sì vai mi dici la strada sì ti dico la strada ok vado pamela sì peter è tanto tempo che non mi sentivo così così come boh leggero leggero come non lo so leggero leggero come una cartina di tabacco ammazza leggerissimo sì leggero mi viene una voglia assurda di fumare ma no di ridere ridi peter davvero posso ridere così senza motivo non mi prenderesti per un cretino beh no peter scoppia a ridere con le lacrime agli occhi peter peter io mi sto un po annoiando no dico mi sto un po annoiando peter io vado io vado vado a casa ho fame e mi è venuto sonno ma non dovevamo andare a piazza davona peter sei proprio un coglione vabbè ciao peter ah 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 si scusa adesso andiamo ah 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 ha ho capito se hai bisogno però chiama qualcuno cosi non mi preoccupi va beh cia phone ah man ma ah 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 devo dire però che ora mi sento molto meglio Sì, Dio, che bello! Abbassa il finestrino. Scusi, signore, mi dica? Come... sì? Dico, come si arriva a Piazza Navona? E beh, dovrebbe parcheggiare qui e poi prendere un autobus. Non può andare con la macchina fino a lì. Sì, va bene, ma con la macchina? Beh, non saprei. Dice che se inseguo un autobus ci arrivo? Direi di sì, ma le fanno la multa. Sì, chiaro, mi faranno una multa. Lei è solo? Scusi? No, dico, vedo che è solo, vuol venire con me? Vado a Piazza Navona con la macchina, facciamo il giro della piazza e poi scappiamo via. Ma lei è pazzo? No, certo che no. Sono solo felice. Come dice? Niente, niente, pensavo ad alta voce. Allora, non viene? No, guardi, sinceramente. Ma ha pensato che tornando a casa potrebbe trovare sua moglie con il ciclo? Ha pensato che potrebbe essere la fine? È pericoloso, mi creda. Meglio una bella multa che un suicidio. Oh, guardi, sta arrivando l'autobus. Devo proprio andare. Mi scusi. Arrivederci. Peter accende la macchina e si incammina. Aspetti, scusi, ma di che cavolo stava parlando? Di niente, davvero di niente. Ho detto solo che sono felice. Sì, terribilmente felice.